E come troveremo questo frammento senza la bussola? Forse è qui? O qui? O magari lì? La bussola puntava in quella direzione. È una strada dritta. Sembra facile. Sinceramente, credo che Aaron non imparerà mai a camminare su una linea retta. Dritto qui o dritto qua giù? Dritto di là, forse? Da questa parte. Guarda, si è perso. Quindi ci siamo persi. Si può seguire il muschio attaccato agli alberi. Oppure usare le stelle per navigare la notte in direzione del portale. Visto, è difficile camminare dritto. La bussola ci ha ingannato. Non troveremo mai il frammento. A meno che non sia questo. A me non sembra un frammento. Forse è da questa angolazione. Non è un frammento, ma forse è ciò a cui puntava la bussola. Aoki ha detto che la bussola ha reagito all'energia. E questo portale sembra sia fatto di pura energia. Energia oscura! Solo i Darkan possono evocare quei portali. E se ora non sono qui? Anche loro lo stanno cercando. Non abbiamo il tempo di avvisare Riff e Aoki. Basta non camminare su una strada dritta. Gormiti, potenza degli elementi! Furia del vento! Combatti! Zafir! Salute, guardiano! E anche agli altri guardiani! Che cosa vi occorre? Allenamento? Combattimento? Pensieri particolarmente profondi? Oh, ehi, Zafir! Dobbiamo raggiungere i nostri amici prima dei Darkan, quindi essere... Veloci come il vento! Troppo esaltati. Non mi piace affatto. Ratterete i pantaloni! Tunnel vortice! Che cosa voleva dire? Che cosa voleva dire? è stato incredibile! Vero, ragazzi? Nascondetevi pure! Nascondetevi pure! Io sto arrivando! Mi sono fatto male dappertutto! Oh, piccolo frammentino! Io... Eccati qui! Fermo! Gormiti! Potenza degli elementi! Furia del vento! Combatti! Combatti! Taipon! Spidare un gormito del vento sopra un monte Non è una buona mossa, Kratus! Aspetta! Eh... No! Tempesta furiosa! Sì! Evviva i tempestosi! Combatti, Orion! Salve, guardiano! Come posso aiutarti? Vuoi allenarti oggi? Orion, c'è un fantasma! Ci sta attaccando! E lui... Dov'è finito? Di chi parli? Si tratta di un indovinello? No! Non c'è nessun fantasma! È... Raffica diabolica! Raffica percorante! Affascinante! Vuoi dire super inquietante? Questo castello è stregato! Dobbiamo andare via! Lontano, lontanissimo da qui! Come si batte un fantasma? Non si può battere! Non è un fantasma! È X-Hator! Hai il potere di rendersi invisibile, però riappare ogni volta che sferra un attacco! Non devi aver paura, Aaron! Oh! Invece dovresti averne! Dovresti averne come? Ok, d'accordo! Stiamo andando bene! Non devo preoccuparmi più di tanto! E invece mi preoccupo! Andiamo via! Dai ragazzi, vi prego! Voglio uscire di qui e rivedere i soli e le lune e... Avete sentito? Certo che ho sentito! Però adesso basta con tutte queste esplosioni fantasma, per favore! Andiamo! Aaron, devi fare qualcosa che potrebbe risultarti molto difficile! Cosa? Farà male? Il dolore non mi piace! Posso fare qualcos'altro? Con le cose facili non me la cavo? Beh, potrei... Dovrai fare silenzio! Fare silenzio? Beh, questo lo posso fare! Sarò muto come un pesce! Prezzavento! Ehi, non è un fantasma! Dormiti irraggiungibili, chi mi fermerà? The land is back! The legend is back! Dormiti! Dormiti!